ha fatto due pareggi due pareggi si lo sappiamo che tu stai risparmiando le forze per il cubito e invece di là andiamo? due, l'attacco due con questo di l'altra ma mi ha fatto due pareggi ha fatto due pareggi al primo gioco e poi non mi ha fatto due pareggi e poi non c'era il pescato no di là era l'altra e la chiara si è andata ah prima abbiamo fatto due pareggi e poi si parla di tempo e poi si parla di tempo e poi ci mette da tirare di capelli si parla di caso e poi vi rilasciare e poi si parla di capena e poi si parla di un unico aiutico e poi avrai pagare